Tutto è pronto! Possiamo partire! Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Non ci sono però … … … … … … Sì, 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 sì. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. uscire a destra non importa troverò un nuovo percorso tenersi a destra e poi voltare a destra voltare a destra tenersi a sinistra e poi uscire a sinistra uscire a sinistra tenersi a destra turner 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 Grazie a tutti. Tenersi a sinistra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Alla rotatoria prendere la terza uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Voltare a destra. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. Alla prossima.